Operazione antidroga dei carabinieri di Vicenza, blizzi in un appartamento di Viale Dal Verme in città, in manette un nigeriano di 35 anni gravato da precedenti e con regolare permesso di soggiorno. I militari, a seguito della perquisizione dell'alloggio non rinvenuto tra gli effetti personali dell'extracomunitario, 15 ovuli di sostanza stupefacente che è stata sequestrata. Si tratta di oltre un etto di eroine, quasi 50 grammi di cocaina, sostanze entrambi di ottima qualità e non ancora tagliate che sul mercato avrebbero reso parecchio. Sequestrati anche circa 1700 euro in banconote di vario taglio. I militari sono arrivati all'abitazione del 35enne a seguito di segnalazioni di uno strano via va in zona.